Ciao ragazzi, oggi sono venuto in questo nuovo tutorial e intanto là c'è il mio cane, guardatelo! E allora, vedremo una discesa, che è questa qua, allora la vedremo in cui si possono prendere un quadro sensoriale, non guardare qua in cui vedremo, vediamo due! Invece, i gradini, come sempre, i gradini si devono fare leggermente fuori cell tenendole, teniamo tutti a metà e dai, prendiamo il calcio, metto un attimo le marce basse dai, ma non ci vuole le marce per me non ci vuole, ma non ci vuole, non ci vuole Noi, non ci vuole, non ci vuole, non ci vuole nella stagione Non ci vuole, vai? Liare... Ci sentiamo sicuri e facciamo lasciare Allora ragazzi, qui è un tutorial Sia una discesa, sia una scalinata E noi ci vediamo al prossimo video Ciao!